Un modo per affrontare l'attesa, l'adegenza, ma anche una opportunità, un servizio per il quartiere e per gli studenti, futuri medici. Inaugurata presso il padiglione Vinci dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la biblioteca in ospedale. I nostri volontari praticamente si recano personalmente presso i reparti, dando appunto in prestito ai degenti e ai familiari libri da leggere. Spesso e volentieri prestiamo anche voce ai libri, lì dove ovviamente non vi sia la possibilità di poter leggere in autonomia. Il servizio bibliotecario avviene due volte a settimana, al mattino, sarà aperto a tutti, quindi agli studenti universitari, agli operatori ospedalieri, alla cittadinanza tutta. Mentre il mercoledì vi sarà un servizio specifico presso i reparti. Direttore, facciamo adesso invece un invito alla cittadinanza ad usufruire di questo servizio e anche agli ospiti della struttura. Leggere un libro è un momento di riflessione, questo vale per gli assistiti che sono in quel momento ricoverati nei nostri reparti e quindi offrire anche un momento di tranquillità da quelli che sono purtroppo i loro problemi di salute nell'affrontarli, così come può essere aperto all'esterno come fonte proprio di attenzione e di cultura anche da parte delle nuove generazioni.